Power Automate è uno strumento che consente la creazione di flussi di lavoro automatizzati per gestire in modo controllato i processi di lavoro aziendali. Il vantaggio principale di questo è la gestione veloce, organizzata e sicura dei vari processi. All'interno di questi flussi di lavoro è possibile reperire dati dalle varie applicazioni del mondo Microsoft. Per esempio uno degli utilizzi più comuni è quello di leggere dati da fogli Excel anche strutturati in modo molto complesso e inviare poi comunicazione a vari utenti tramite Outlook o con messaggi Teams. Un altro caso d'uso molto comune per questa applicazione è la creazione di richieste di approvazione per esempio per ferie o per messi o per richieste più specifiche all'interno della vita aziendale.